convenzi alla pittura avere movimenti soavi e grati convenienti a quello i visifacci siano alle vergini movimenti e posari ariosi pieni di semplicità in quali piuttosto sia dolcezza di quiete che gagliardia bene che a domero quale seguito zeosis piacque la forma fatticcia persino nelle femmine siano i movimenti ai garzonetti leggeri iocondi con una certa demostrazione di grande animo e buone forze sia nell'uomo movimenti con più fermezza ornati con belli posari e artificiosi sia a di vecchi loro movimenti e posari stracchi non solo in su due piedi ma ancora si sostengono sulle mani e così a ciascuno con dignità siano i suoi movimenti del corpo ad esprimere qual vuoi movimento dell'animo e delle grandissime perturbazioni dell'animo simile siano grandissimi movimenti delle membra e questa ragione dei movimenti comune si osservi in tutti gli animati non già si è confà ad un bue aratore darli quei movimenti quali daresti a bucefalas gagliardissimo cavallo d'alessandro ora poiché ancora le cose non animate si muovono in tutti quelli modi quali di sopra di cemmo adunque di questo diremo dilettano nei capelli nei crini nei rami frondi e veste vedere qualche movimento quanto certo a me piazza nei capelli vedere quello io dissi sette movimenti valgansi in uno giro quasi volendo anodarsi e un dezzino in aria simile alle fiamme parte quasi come serpe si tessano fra gli altri parte crescendo in qua e parte in là così i rami ora in alto si torcano ora in giù ora in fuori ora in dentro parte si contorcano come funi medesimo ancora le pieghe facciano e nascano le pieghe come al tronco dell'albero il suo rami in questa dunque si seguono tutti i movimenti tale che parte niuna del panno sia senza vacuo movimento ma siano quanto spesso ricordo i movimenti moderati e dolci piuttosto quali porgano grazia a chi miri che maraviglia di fatica alcuna ma dove così vogliamo ad i panni i suoi movimenti sendo i panni di natura gravi e continuo cadendo a terra per questo starà bene in la pittura porvi la faccia del vento zefiro austro che soffi tra le nuvole onde i panni ventoleggino e qui ci verrà quella grazia che i corpi da questa parte percossi dal vento sotto i panni in buona parte mostreranno il nudo dall'altra parte i panni gittati al vento dolce voleranno per aria e in questo ventoleggiare guardi il pittore non spiegare alcuno panno contro il vento e così tutto osservi quanto dicemmo dei movimenti degli animali e delle cose non animate ancora con dirigenza seguiti quanto raccontammo della composizione delle superficie dei membri e dei corpi